Belen. Conferma il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Prima di raccontarti i dettagli di questa incredibile rivelazione della showgirl argentina, ti chiedo di iscriverti al canale e mettere un mi piace al video. Grazie per il supporto. Dopo anni di silenzio, la presentatrice televisiva argentina Belen ha finalmente ammesso il coinvolgimento romantico tra l'ex marito Stefano De Martino e la collega Alessia Marcuzzi. Scatenando una nuova ondata di titoli di giornale, Belen ha risposto in modo affermativo su Instagram a una domanda di un fan sul presunta relazione nel 2016, l'anno in cui Rodriguez ha interrotto bruscamente la sua relazione con Stefano. A seguito di questa prima ammissione, la 39enne ha deciso di fare chiarezza sulle sue precedenti smentite di sette anni fa, quando aveva vigorosamente negato qualsiasi connessione romantica tra Stefano e Alessia. In un riconoscimento pubblico, Belen ha espresso gratitudine ad Alessandro Rosica, che anni prima l'aveva avvertita sull'infedeltà, un avvertimento che aveva respinto all'epoca. Ha scritto Voglio ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa ha cercato di avvertirmi, e non solo non gli ho creduto, ma ho anche ricevuto parole dure. Ora devo solo dire che avevi ragione, e grazie per gli aggiornamenti preziosi. La ex conduttrice de Le Iene è stata quindi ulteriormente interrogata dall'esperto di gossip, che aveva divulgato dettagli sul presunto continuo tradimento di Stefano. Rosica ha dichiarato, da anni vi racconto la storia parallela e i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino. Questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen Rodriguez. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura dal suo ex marito. Stefano continua a negare, presumibilmente per proteggere suo figlio. Cosa pensare? Grazie per avermi dato ragione. Rosica ha concluso il suo post promettendo ulteriori rivelazioni sulla saga in corso. State tranquilli che ora porteremo fuori il resto di questa storia, dalle avventure dietro le quinte ai viaggi segreti insieme. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri di questa saga è ancora troppo presto per dirlo. Tuttavia, una cosa è certa, Belen è stata pubblicamente in contrasto con i suoi due ex partner, Stefano De Martino e l'ex fidanzato Antonino Spinalbese, etichettandoli come veri bugiardi in questi giorni. E tu avevi già sentito queste voci del flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Sicuramente se i fatti sono quelli che ha raccontato Belen Lamarcuszi non si è comportata molto bene nei suoi confronti. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti.